I minatori polacchi sul piede di guerra. A migliaia sono scesi in piazza a Katowice contro la decisione della compagnia Veglova di fermare la produzione per una settimana. Decine di migliaia di persone rischiano il posto di lavoro a causa della possibile chiusura di impianti che non rendono più nella regione di Slask.